Ciao a tutti ragazzi, sono Stefano Castiello e benvenuti in questo update d'emergenza. Ma che è successo al prezzo di LUNC? Abbiamo registrato percentuali folli dall'incirca stamattina ad adesso che sto registrando. Stiamo facendo percentuali incredibili, un più 80% in pochissime ore. Ma perché è successo questo? Cosa bisogna aspettarsi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Quali sono i livelli importanti da monitorare? E soprattutto ancora, che è successo realmente? Perché vediamo una reazione del prezzo folle, si può dire, con queste percentuali da un altro pianeta? In questo video ne parliamo subito, però prima di iniziare è fondamentale in questi casi lasciare un mi piace per supportarmi. A voi davvero non costa nulla, basta un clic in un secondo e mi supportate. Se non siete iscritti iscrivetevi assolutamente al canale. Ora iniziamo subito. La notizia più importante ragazzi è questa qui da parte di Binance perché 51 minuti fa, grazie a voi iscritti, ho scoperto che ha fatto questo tweet Binance sul profilo ufficiale annunciando che avverrà il burn di Luna Classic. Però attenzione ragazzi perché eravamo rimasti al fatto che ci fosse questo burn tramite un procedimento molto complicato che ho spiegato in questi giorni, tramite diverse fasi, tre fasi, tramite un pulsante, vabbè non voglio di nuovo spiegarvelo, però eravamo rimasti comunque a qualcosa di molto primitivo. Invece tramite questo tweet da parte di Binance sappiamo che tutto ciò non ci sarà più e che soprattutto ragazzi avverrà il coin burn sia su Binance che anche tramite le transazioni on chain, ma soprattutto tramite Binance che se facciamo una piccola ricerca detiene il 34% dei token ragazzi di LUNK che è tantissimissimo. Quindi questo ci fa capire che avere un burn da parte di Binance per quanto riguarda la total supply di LUNK che è enorme in questo caso, infatti stiamo parlando di 6 trilioni l'offerta in circolazione, eccola qui, è davvero enorme. E per far sì che il prezzo salga ovviamente sappiamo benissimo che abbiamo bisogno di ridurre tantissimo questa offerta in circolazione, spesso ve l'ho detto e tramite Binance questo è possibile, infatti vediamo anche un volume di scambi nelle ultime 24 ore che ha aumentato a dismisura. Io spesso monitoro questi volumi, queste cose per fare operazioni, per comprare spot, fare un po' di speculazione, ma il prezzo è salito alle stelle, il volume degli scambi nelle ultime 24 ore è esploso, la capitalizzazione di mercato è arrivata ovviamente a 2 miliardi, 198 milioni, 630 mila USD e sono molto contento perché sembrava diciamo che il prezzo stesse per morire, invece abbiamo visto una reazione molto molto forte e questo è dovuto soprattutto all'implementazione da parte di Binance. E se guardiamo anche alcuni articoli, io prendo sempre criptovaluta.it perché eseguo il giornale e gli articoli sono scritti in maniera semplice e soprattutto in breve termine li scrivono, scusatemi li scrivono subito volevo dire, qui viene scritto colpo di scena da Binance che torna sui suoi passi, mette in cantina il vecchio piano di votazioni, di cui già avevo parlato prima e anche negli giorni precedenti per quanto riguarda le tre fasi, e avverrà questo burn di LUNC dell'1.2% su ogni transazione, soprattutto c'è questo messaggio da parte di CZ ragazzi che è ancora più importante perché CZ durante le make hanno fatto tre giorni fa se non mi sbaglio l'ho seguita, era titubante sul da farsi, non era molto contento di Luna Classic, non molto contento diciamo più era dubbioso perché è una cosa importante no? Giustamente Luna Classic adesso è una community molto forte e l'exchange va a perderci se non decide bene cosa fare e questa sua decisione di implementare le tre fasi non è piaciuta alla community però in questo caso invece ragazzi è piaciuto moltissimo quello che ha deciso di fare perché adesso sarà Binance a rimetterci dei soldi perché automaticamente avverrà questo burn non sarà data la decisione ai vari traders della tassa dell'1.2% quindi notizia davvero bomba che ha fatto esplodere il prezzo e sono percentuali ragazzi assurde davvero, sono percentuali assurde in pochissime ore mi dite Stefano cavolo non posso giustamente prendere questa opportunità così all'improvviso e fare un più 80% certo ragazzi questo è poco ma sicuro però anche a questo serve l'analisi tecnica perché tramite l'analisi tecnica possiamo studiare quali sono i livelli importanti da monitorare infatti in questo momento siamo su questa resistenza di 0.33 questa qui in bianco e il prezzo ha trovato resistenza adesso sta un po' correggendo è normale che sia così dopo questo uptrend in pochissime ore assurdo se riuscissimo a trovare continuazione ragazzi se attenzione perché purtroppo in questi casi che c'è tutta questa speculazione potrebbe anche non avverarsi tutto ciò se riuscissimo a trovare questa continuazione il prezzo potrebbe rompere questa resistenza arrivare qui avere una piccola correzione e conferma quindi della rottura della resistenza che diventa poi supporto rompere il vecchio arrivo del prezzo qui su 0.36 e potremmo poi arrivare su livelli di 0.43 se dovessimo solo però ripeto avere continuazione adesso seleziono un attimo i volumi se ci riesco vediamo un attimo qui selezioniamo i volumi per vedere che volumi e che volumi ragazzi vediamo volumi bullish super importanti qui in questo momento ovviamente il volume è decrescente rispetto agli altri però questo non significa nulla io continuerò a monitorare la situazione vi aggiorno non appena posso per questo vi dico che è importantissimo lasciare un mi piace a questo video per supportarmi perché più mi piace prende più il video gira più creo altri video poiché ragazzi perdo tempo a analizzare i grafici fare video portarveli sul canale parlare eccetera dovrei mangiare in questo momento però non fa nulla ho messo tutto in pausa in cucina per farmi questo video e se non siete iscritti iscrivetevi però comunque ripeto che vi aggiorno sempre e date un'occhiata anche link qui in basso in iscrizione come bit get per fare copy trading perché queste percentuali si possono fare anche in automatico copiando altri traders che hanno ad esempio l'unc nel portafoglio basta mettere un capitale tramite bit get fate copy trading c'è il video specifico qui in basso in iscrizione dove vi spiego come si utilizza la piattaforma come si fa copy trading e tutte quelle cose belle però torniamo qui sono davvero contento da una parte perché vedere questo passo da parte di di binance anche di cz come se avesse fatto un passo indietro proprio per avere quella community forte che c'è in che crede in l'unc perché sono tante persone che ci credono e quella proposta non è stata molto diciamo accettata dalla community di l'unc anche io vedevo una cosa un po per lavarsi le mani da parte di binance invece facendo questo prendendosi l'oro la briga di bruciare l'uno 1.2 per cento delle transazioni in automatico è qualcosa di davvero importante e apprezzo tantissimo questo gesto da parte di binance che andrà sicuramente a ridurre la security supply che davvero tanto cioè non si può neanche pronunciare questo numero stiamo parlando di trilioni di dollari di trilioni di token scusatemi e quindi vedere binance che brucerà token è molto positivo perché ripeto che ha dentro l'exchange lot wallet il 34 per cento dei token che sono davvero tantissimi quindi ne vedremo delle belle sicuramente ragazzi speriamo bene cosa fare adesso con l'unc io non entrerei ora perché perché il prezzo è steso abbiamo registrato un più 80 per cento quindi non ha senso neanche entrare in questi casi né short andare long nei fare acquisti spot io aspetterei qualche giorno aspetterei la conferma della rottura di questa resistenza perché possiamo anche fare una cosa del genere cioè toccare di nuovo la resistenza e scendere di nuovo verso il basso si perde l'hyper e continuiamo a scendere però in questo caso invece ragazzi potrebbe cambiare qualcosa e se vedessi il ritest se vedessi la trasformazione questa resistenza in un supporto come un ritest lì potrei aprire qualche posizione long oppure fare qualche movimento spot non so ragazzi vi tengo aggiornati per questo iscrivetevi al canale grazie mille a tutti noi ci vediamo alla prossima avventura vado a cucinare e mangiare il mi piace iscrivetevi a presto speriamo bene per l'unc che si riprenda davvero